buon pomeriggio amiche un pomeriggio e ben ritrovati sul mio canale oggi ci incontriamo perché con voi vorrei terminare questo orecchino in realtà non è un tutorial completo perché l'altro orecchino già è a buon punto però insomma volevo terminarlo con voi ovviamente vi spiegherò nel dettaglio poi come ho realizzato la prima parte per realizzare questo orecchino la cosa particolare che utilizzato oggi è l'introduzione di una di queste berline che sono le navette eccole qui e quindi come vedete lo sovrapposta al nostro elemento perché non ho girato il tutorial perché in realtà la parte qui di base è veramente un modulo semplicissimo in cui poi ho inserito semplicemente una catena strass l'altra particolarità sono questi elementi in resina che vedete goccia e questa resina sfera effetto pietra questi due le ho presi da gioie e colori quindi questo orecchino al di là della pietra centrale che è un diasporo per il resto è veramente leggerissimo cioè non pesa nulla ragazzi quando si realizzano gli orecchini astutage con queste resine e con elementi non tutti in pietra come in questo caso ovviamente l'orecchino è veramente leggerissimo e portabile quindi navette 80 elementi in resina qui ho messo un pezzettino di canottiglia ovviamente poi ci servirà un pezzetto di catena a strass questa non ricordo assolutamente dove l'ho presa se l'ho presa su aliexpress se insomma in uno scambio tra creative mi è stata data non mi ricordo non è più la bustina servirà poi qualche 11 0 e 15 0 solo qua in basso perché vedete che la goccia al foro passante di traverso è bellissima queste gocce ragazze veramente io né un'altra coppia e mi farò sicuramente un altro paio di orecchini probabilmente al brick stitch dopodiché servirà una pietra centrale e ovviamente l'altra giallo incastonata su dash è semplicemente una pietra questa vedete è tipo un lapis e quindi semplicemente l'ho cucita a una base quindi servirà ovviamente della bidding foundation oppure dell'esistive staff e poi successivamente servirà io utilizzo anche un po di ultrasuite di alcantara quando vado ad inserire la catena strass mi aiuta e mi agevola nella cuscitura poi ovviamente lo sapete nel su tascio ognuno utilizza la tecnica che preferisce quindi insomma fate come preferite io vi spiegherò con un disegnino quello che ho fatto e vi mostrerò a che punto sono arrivata e lo concluderemo insieme andremo insomma a fare questo pezzetto con la navetta andremo a inserire la goccia andremo a fare questi elementi superiori quindi poi ci serviranno ovviamente delle piattine di su tasse queste sono di bid per les sono da 3 millimetri in questi due colori uno me lo ricordo c'ho la bustina ancora qui davanti è questo jean juill che è veramente adorabile e l'altro è un po più scuro ho smarrito la bustina però ok no allora l'altro colore è questo preso da make bijoux però secondo me le qualità sono molto 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 simili quindi questo è di make bijoux e questo invece è jean juill o qualcosa del genere dopodiché ci servirà ovviamente la colla un po di colla io utilizzo questa sempre per il su tasse e ago ovviamente filo utilizzo il filo miyuki però nel punto qui quando cucio la goccia per non far vedere il filo colorato ho preso un filo trasparente in questo momento utilizzato il capper lan e quindi l'ho passato a più riprese idem qui quando inserito la il pezzetto di canottiglia penso di avervi detto tutto andiamo al dettaglio e vediamo a che punto siamo arrivati con l'altro modulino vado a recuperarlo ovviamente vi servirà l'ago e gli servirà ovviamente una monachella io utilizzo sempre queste in acciaio prese da fortunato e qui delle coppettine in acciaio dove ho fatto un nodino ad orefice perché non ero molto convinta del tipo di gancio da mettere se l'orecchino veniva lungo corto quindi ho deciso di fare in questo modo nulla toglie che una volta indossato non mi convinca e cambi qualche cosa per adesso così mi piace lo trovo veramente delizioso e questo l'ho realizzato con i colori del secondo studio di colore poi vi mostrerò tutte le creazioni fatte in questo colore verde marroncino senape e quant'altro no senape non c'entra niente non so perché l'abbia detto adesso vi faccio vedere i colori pantone che avrevo scelto per il secondo studio di colore questi sono i tre colori pantone che avevo deciso di utilizzare per la realizzazione di qualche mio bijou per chi si è perso i video precedenti avevo utilizzato per lo studio di colore numero uno altra tipologia di colori adesso invece ho deciso di utilizzare questi che sono molto molto nelle mie corde come vedete qui ci sono va bene delle prove con i pastelli e niente ragazze quindi questi sono i colori e come vedete questo è l'orecchino benvenuto ottobre e questo quindi l'orecchino che richiama questi colore pantone ovviamente mi ha aiutato tantissimo ma tanto 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 ovviamente questa pietra in diasporo che ha perfettamente questi colori quindi connubio perfetto e niente vi lascio quindi al seguito ora vi spiego con un disegnino cosa ho fatto allora praticamente ho preso un pezzettino di bidding fondation ed ho cuscito al di sopra della bidding fondation la mia pietra ovviamente la pietra come vedete è cucita in trasversale in questo modo quindi diciamo che ho preso il mio pezzettino di bidding fondation e ciò cuscito al di sopra la mia pietra dopodiché ho preso più o meno venti centimetri di piattina di su tasse c'è mancato la cd su tasse e sono andata ok diciamo che queste sono due le due piattine sono andata a contornare tutto quanto il mio elemento quindi diciamo che queste sono le mie piattine ok le mie due piattine di colore verde quindi sono partita dal centro e sono andata a contornare dopodiché cosa ho fatto semplicemente voi ovviamente qui non lo vedete ma potete vederlo già qui perché questo era il punto a cui ero arrivata praticamente sono con le piattine ridiscesa ok e mi sono portata verso il basso ma prima di fare questo ho dovuto mettere la mia catena a strass quindi dopo aver cuscito le due piattine ho inserito la catena strass ed io per inserire la mia catena a strass ve lo mostro dal retro ho utilizzato come vedete un pezzetto di ultrasuite quindi quello che voi vedete in bianco quello che voi vedete in bianco è la bidding foundation dove io ho cuscito la mia pietra questo che vedete più esternamente con un foro centrale ovviamente altrimenti lo spessore sarebbe diventato immenso è un pezzetto di ultrasuite alcantara al di sopra del quale io ho poi messo la mia catena a strass una volta che ho messo la catena strass utilizzando ovviamente la colla ho messo la catena a strass dopodiché ho cuscito quindi vedete ci sono tutti questi punti fatti con il filato verde in cui ho cuscito la mia catena strass ho cuscito ogni due castoni quindi la catena strass è sia incollata che cuscita dopodiché sono passata con il filo di nylon trasparente vedete ancora collegato ho rigirato tutte quante le mie le mie piattine tutte due e le ho portate in basso disegno perfetto e sono arrivata praticamente a questo punto per continuare quindi quello che ci tenevo a mostrarvi che spero sia chiaro con il disegnino è quello che ho realizzato qui semplicemente parto dal basso giro le piattine cucio metto la catena strass giro attorno con le mie piattine e chiudo qui come vedete ci sono i puntini insomma si vedono sono trasparenti quello invece del cast dei castoni della catena strass si notano quindi arrivate a questo punto era inutile fare un tutorial ultralungo quando in realtà facciamo sempre tra virgolette un pochino le stesse cose adesso vado inseriamo insieme le 80 e poi andiamo insieme a realizzare questo piccolo elemento fatte con le navette e poi tutto il resto probabilmente metterò una musichetta di sottofondo e dalle immagini riuscirete a capire quello che sto facendo mente se voleste realizzarlo visto che vi ho detto la quantità di su touch vi dico anche quanto misurano queste pietre che ho incastonato misurano circa guardate tra i 13 e di 14 mm quindi potete regolarvi con la quantità di su touch va bene è meglio tagliare un centimetro e gettarlo anziché poi non averne per finire il modulino tenete sempre presente questo io occhio croce mi sembra che avessi usato un 18 19 però voi andate col 20 e via grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andremo a dare qualche spunto e a terminare. Mi raccomando questa parte non andate di fretta perché comunque la colla dovrà fare presa, è un elemento abbastanza particolare. Quindi mi raccomando colla perché ovviamente qui vedete c'è un po' di piattina, c'è parte della perlina, quindi deve aderire bene. Quindi mettete la colla e aspettate che asciughi. Diciamo che un pochino la colla ha fatto presa, quindi adesso diciamo che pian pianino, tenendo sempre ben fermo il nostro elemento, dal retro, ok? Ok? Cerchiamo, vedete, di dare un puntino per collegare i due elementi. Mi raccomando, tenete bene perché non vogliamo assolutamente che l'elemento si stacchi, altrimenti dobbiamo ricominciare da capo. Quindi ho dato un puntino piccolissimo, fate la stessa cosa anche voi, quindi in vari punti, ok? In vari punti cercate di collegare i due elementi, ok? Ok. In modo molto semplice, date un puntino così da collegare anche con qualche punto la nostra parte davanti con la parte sul retro. Una volta fissato ovviamente il nostro elemento non si staccherà assolutamente più. Quindi passiamo nella parte superiore, faccio ovviamente qualche nodino, sono passata più di una volta, adesso andiamo nella parte superiore e andiamo a prendere la nostra canottina. Allora, la canottina è molto delicata, ovviamente ce n'è una tipologia più dura, questa no, è quella standard, quella che si usa insomma in giulineria ed è abbastanza delicata. Quindi quello che io vi consiglio è di passare già il filo doppiato, vedete che ho fatto il nudo con il filo già doppiato, in modo tale che passerò soltanto una volta. Scusate un po' di rumori di fondo, va bene, casa mia è così. Ok, dopodiché con delicatezza, con molta delicatezza, vedete che appena la si tocca si può insomma sfaldare e aprire, quindi con molta delicatezza infilatela sul vostro ago e spingete fino in fondo. Dopodiché andate dal lato opposto. Vi sconsiglio di, insomma, di ripassare, perché nel passaggio se con l'ago urtate la canottiglia si deforma e quindi è veramente difficile. Se volete provare, provateci, ma io ve lo sconsiglio, quindi passate eventualmente il filo due o tre volte e dopodiché stringete con un nodino. Io ho usato una pinza per acquare leggermente la mia canottiglia e vedete che ho dato qualche puntino qui per stringere e per tagliare il filo. Diciamo che la nostra parte di soutache cucita è finita materialmente, ovviamente qui la colla dovrà ancora finire di far presa, però nel frattempo noi andiamo a prendere un pezzetto di filo. Questo mio è in argento, ma potete prendere un filo da wire di uno spessore, insomma, idoneo, che comunque sia sostenuto. Questo penso sia uno 05 in argento placato oro. Potete utilizzarlo eventualmente di ottone e comincio semplicemente con fare una piccola solina. Eventualmente ve lo metto velocizzato, ve lo spiego prima. Asolina, nodino da gelleria, coppetta, perla, coppetta, nodino da gelleria e chiudo. Velocizzo il video, però volevo spiegarvelo, quindi vado, procedo, così. Gli orecchini finalmente sono terminati. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e come sempre, ragazze, buona creatività.